Nella giornata di ieri, 10 gennaio, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, si è recato a sorpresa a Sant'Eramo, Altamura e in serata a Gravina, facendosi annunciare da brevi chiamate prima dell'arrivo nei comuni. Emiliano, in giro per Altamura, in compagnia del sindaco Forte, si è detto soddisfatto del lavoro compiuto dalla nostra città, seppure i disagi siano stati forti ed evidenti. La statale 96 è stata a lungo impraticabile, isolando in tal modo la nostra città. Ciò nonostante, il nostro primo cittadino si è mostrato attento a risolvere al meglio le problematiche scaturite in seguito agli abbondanti nevicate che hanno colpito il territorio. Forte sostiene che resti ancora molto lavoro da svolgere nella pulizia delle strade dei cassonetti che da giorni strabordano di rifiuti, chiedendo sostegno alla regione. Il presidente si è congratulato con il nostro sindaco ringraziandolo per avere fatto fronte alle incombenze e alle necessità di una grande città come Altamura nella efficiente ed esemplare gestione dell'emergenza, senza paure e senza remore. In serata, la visita di Emiliano anche alla sala operativa di Gravina, attiva dal 5 gennaio negli uffici del comando di Polizia Municipale per gestire l'emergenza neve. Emiliano si è seduto accanto al sindaco di Gravina, Alessio Valenti, affiancato dal maggiore Nicola Ciccolecchia, comandante della Polizia Municipale e coordinatore della sala operativa. Il presidente ha ascoltato con attenzione quanto accaduto e come la macchina amministrativa si sia mossa per agginare le difficoltà dovute alle abbondanti nevicate, prendendo atto dei provvedimenti eseguiti. Grandi attenzioni anche per il canale di comunicazione che le città hanno tenuto aperto e che ha aiutato i cittadini a non rimanere isolati e a chiedere aiuto per fronteggiare situazioni di particolare disagio. Emiliano si è mostrato soddisfatto del lavoro compiuto dall'amministrazione gravinese, in sinergia con il sistema locale della protezione civile, tanto da chiedere al primo cittadino di mettere a punto, in collaborazione con altri sindaci, un modello standard da rispettare in caso di emergenza neve.